Buongiorno, buongiorno e buon 3 maggio. 3 maggio 1987, sono passati 33 anni. Quando il Milan batte la Roma, 3 maggio 1987, 4-1. Gol di Boniek, reazione dei ragazzi, allenati da qualche settimana da Fabio Capello. Grande protagonista, tripletta di Pietro Paolo, il predatore delle palle perdute, Virdis. Ma lì non ha predato nulla, è stata una preda straordinaria. Il primo gol va via in area in tunnel a Nela. Subera con un dribbling Baroni e Righetti e in diagonale batte, dopo uno slalom splendido, batte il portiere Tancredi. Poi segna con un altro, dopo l'errore di Gerolino, un tiro in diagonale e colpo di testa. Segna poi Donadoni il 4-1 finale. Una grande partita di Pietro Paolo, Virdis. Ma lasciatemi rivivere ancora le emozioni con Carlo Ancelotti, ieri ospite sul mio profilo Instagram, in diretta Instagram. A proposito, a proposito, oggi 14.30, e non sono mai casuali, mai casuali, ospite Maurizio Gantz. Perché? Perché la prima domenica di maggio del 1999 lui realizza il gol, o meglio, effettua il tiro poi deviato dalla schiena di un giocatore della Sampdoria che regala la vittoria per 3-2, una vittoria indimenticabile, indimenticabile. E allora, alle 14.30, diretta Instagram proprio con Maurizio Gantz, per parlare di quel gol, di quell'emozione, di quello scudetto vinto, della sua avventura rossonera e della sua avventura che continua oggi come allenatore del Milan femminile. Ma torniamo a Carlo Ancelotti. Ieri, protagonista, grande successo alle 14.30, che sono diventate le 15, per un problema legato al contatto con il telefono suo in Inghilterra. Ebbene, la frase lapidaria, dopo aver parlato del passato, ha detto. Ma come mister, gli ho detto, ma come Carlo, anzi, perché lo chiamo Carlo. Carlo, ma scusami, i tifosi temono l'arrivo di Ralf Ragnik, un allenatore straniero? I tifosi non devono aver paura degli allenatori stranieri. I tifosi devono aver paura degli allenatori scarsi. I tifosi devono aver paura degli allenatori scarsi, non degli allenatori stranieri. E mi sembra che questo sia il motto delle prossime settimane. Che venga o che non venga Ralf Ragnik. Che venga come allenatore o come plenipotenziario di tutta la struttura, mercato e tecnica del Milan. Però questa direi che è la frase più lapidaria, più giusta. Devono aver paura, devono preoccuparsi degli allenatori scarsi. Non da dove arrivino, quanto siano alti e quanto abbiano fatto. Gli allenatori scarsi sono da evitare. Poi se arrivano dall'Inghilterra o dalla Germania o da un qualsiasi posto nel mondo, questo non conta. Queste le sagge parole di Carlo Ancelotti. Abbiamo rivissuto con lui tante vittorie, tante emozioni. Ma lui ha sfidato la Germania, la Francia, la Spagna. Spagna è ancora idolatrato. L'Inghilterra. E portando il suo calcio, portando le sue idee, ha vinto. E ha sempre vinto tanto. Quindi nessuno ha mai detto, ma arriva dall'Italia. Quindi teniamoci in mente, quando abbiamo magari delle prevenzioni nei confronti di Ralf Ragnick, le parole di Carlo Ancelotti. Queste le parole di Carlo Ancelotti. E quindi, guarda, addirittura ve le voglio far risentire. Ve le voglio far risentire. Che idea ti sei fatto di questo allenatore se lo conosci? E se ci sono queste paure, siano motivate o meno? No, guarda, io Radni, mi sembra che ci siamo incontrati, quando ero in Germania, un anno, una partita, credo. Non sono sicuro che allenava... Adesso non so neanche... Forse era l'Ipsia. Non lo conosco troppo, non posso dare nessun tipo di giudizio. Ciò che, da quello che leggo, era innamorato di Sacchi. Però sinceramente la sua metodologia non la conosco. E in generale l'arrivo di un allenatore straniero deve far un po' spaventare il tifoso del Milan? Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi. Fortunatamente il Milan ne ha scelto tanti bravi. Ecco, avete ben capito? Queste sono le parole di Carlo Ancelotti. Che così vi è ancora più chiaro con quella sua bonomia. Bisogna aver paura degli allenatori scarsi, non degli stranieri. E dunque seguiamo quello che dice Carlo Ancelotti. Ci auguriamo che se dovesse arrivare Ralf Ragnik, come io continuo a pensare, poi magari mi sbaglierò, speriamo che non sia un allenatore scarso, speriamo che sia un grande allenatore. Se viene dalla Germania o da qualsiasi altro paese, ai tifosi del Milan non interessa. Interessa che sia bravo, faccia divertire il pubblico, sia bravo a mettere insieme una squadra. Direi una struttura, perché continuo a ricordarvelo, con il Salisburgo a capo di tutto era Ralf Ragnik. Hanno vinto anche la Youth League, sistemando anche il settore giovanile. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.